Ciao, come calmare la mente? Ci sono diversi modi per calmare la mente. Ovviamente nelle meditazioni, ad esempio, nelle meditazioni in cui si va in uno stato meditativo profondo, si calma rapidamente la mente. È ovvio che spesso non abbiamo tempo per fare questo, oppure non riusciamo a farlo quando viviamo uno stato di tensione, per cui il modo più rapido per calmare, appunto, rapidamente la mente è quello dell'ancoraggio emozionale, cioè i nostri stati mentali non sono completamente avulsi dagli stimoli sensoriali che riceviamo. Cioè, per calmare la mente è sufficiente che una volta siamo con la mente calma, fondamentalmente. Quindi, nel momento in cui ci sentiamo calmi, tranquilli, rilassati, ci concentriamo su questo stato, chiudiamo gli occhi, ci visualizziamo calmi, tranquilli, poi ci creiamo un ancoraggio molto meglio, diciamo, multisensoriale. Quindi possiamo chiudere gli occhi e immaginare noi stessi perfettamente rilassati e contemporaneamente stringere il pugno della mano sinistra, ad esempio, e contemporaneamente ripetere dentro di sé il mantra o la frase io sono calmo e rilassato. Quindi questo diventa un ancoraggio multisensoriale. Visivo, interno, cioè mi immagino rilassato. Cenestesico, chiudo il pugno e la mano sinistra. E auditivo, mi ripeto, io sono calmo e rilassato. Fatto un po' di volte, diciamo, si crea questa connessione, per cui poi quando non mi sentirò perfettamente, la mente calma, mi basterà chiudere gli occhi, visualizzarmi in quella situazione in cui mi ero visualizzato e rilassato, mentre stringo il pugno e mentre mi dico io sono calmo e rilassato. Si creerà un ancoraggio, quindi un collegamento molto rapido che mi farà accedere a quello stato di rilassamento e quindi avrò la possibilità di calmare la mente in modo veramente veloce e veramente efficace. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!